Odio la maionese. Davvero? Sì, è una salsa disgustosa, sembra... In effetti la odio anche io. Ehm, è la... la seconda delle mie tre più grandi paure. Quali sono le altre? I dentisti e gli spazi piccoli. Ci stavi pensando? Veramente no, come se chiedessi a te di che cosa hai paura. Non dovresti pensarci, lo sapresti. Come sai che ho paura di qualcosa? Perché stai mangiando l'affettato con forchetta e coltello.